Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Scandici e Barberino. In direzione Roma 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Valdichiana. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 per lavori code a tratti nel tratto compreso Traversilia e Carrara in direzione Genova. Sempre per lavori è chiusa fino al 19 aprile l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno. Sulla Fipili in direzione Mare 5 km di coda per incidente tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Code in uscita all'Astra Assigna e in direzione Firenze code a tratti tra l'Astra e Firenze Scandici. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!